Caporalato in provincia di Salerno, il sindacato Willa Will provinciale, attraverso il segretario generale Ciro Marino, lancia l'allarme. La questione Salerno è dimenticata da tutti. Basta con la mattanza come avvenuto a Foggia. Nel nostro territorio, continua il segretario Marino, i camion carichi di braccianti sfruttati partono sempre dalle stesse piazze e nessuno fa nulla. Deve intervenire il nuovo prefetto. Chi non si schiere in questa battaglia è complice. Quante persone dovranno morire ancora prima che il governo intervenga per interrompere la mattanza, continua il segretario generale della Willa Will di Salerno, Ciro Marino. Un caso che inevitabilmente per Marino riporta alla mente la questione Salerno. Non dimentichiamo che anche a Salerno e provincia i furgoni carichi di braccianti partono tutte le mattine, alla stessa ora, dalle stesse piazze, guidate dai soliti caporali verso le aziende di sempre. Vanno fermati, i conducenti vanno arrestati, le aziende sanzionate, anche a tutela delle ditte sane che offrono buona occupazione, continua Marino. Per il segretario generale nel 2018 non si può assistere allo spettacolo indegno della tratta. Oggi c'è a supporto anche la legge 199 del 2016, nata per contrastare il fenomeno del caporalato. La si applichi senza sconto alcuno perché la situazione è diventata insostenibile anche da un punto di vista di ordine pubblico. Il nuovo prefetto di Salerno, Francesco Russo, continua il segretario Marino, al quale faccio i migliori auguri per l'insediamento di qualche giorno fa, inserisca subito in agenda la questione Salerno sul tema dell'agricoltura. Vanno investiti tutti gli attori sociali, magari costituendo anche una sorta di alto commissariato per le questioni agricole. Ormai sono anni che denunciamo, ma i passi che si compiono sono troppo timidi. Non faccio differenza tra immigrati e non, per quanto mi riguarda lo sfruttamento in agricoltura interessa a tutti. Per questo è bene intervenire con determinazione e chi non lo fa è complice.